Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di TechPrincess Io sono Fiona e ci troviamo qui a Los Angeles Quello che vedete alle mie spalle è il primo Amazon Books ed è un negozio brandizzato Amazon Più che brandizzato è un negozio Amazon Qui negli Stati Uniti ce ne sono ben 15 e noi vi portiamo a fare un giro al suo interno All'interno di Amazon Books vengono venduti sia libri ma anche prodotti tecnologici ovviamente targati Amazon e dei suoi partner Quindi mi fai vedere delle cose? Ah pensavo che si è stoppata, sta facendo un tonico Bella mi piace Allora troviamo prodotti tipo Amazon Echo che è il nuovo picker smart di Amazon che arriverà in Italia presumibilmente a settembre questa è la versione standard da 99 dollari ma abbiamo anche l'Amazon Dot a 39 dollari in offerta Eccolo qui Amazon Dot 49,99 Oggi solo per oggi 39,99 signori e signore Poi c'è anche la versione Echo Plus a 149 dollari Vedremo come funzioneranno in Italia Noi però ne compreremo uno di questi qua Così possiamo farvi sapere come ci troviamo E chi vince tra questo è Google Home Andiamo avanti però Oltre ad Amazon Echo, Echo Plus e Echo Dot Andiamo anche Echo Show che ha un display che costa 229 dollari Ma anche Echo Spot Che ha un piccolo Hai visto che tenero 129 dollari Ha uno stand Ma hai già rotto Si può posizionare così per terra Oppure sul piano per terra Oppure direttamente con un piccolo stand Ha anche un display che mostra diverse cose Display touch Vedete? Quindi l'orario, il meteo E tante cose varie ed eventuali Eventuali soprattutto Ovviamente oltre ai device Amazon Abbiamo anche dei device partner Ovvero quelli che funzionano con Amazon Alexa Solitamente sono prodotti per la Smart Home Tra questi possiamo trovare che ne so Tipo il Link Casa Oppure gli Switch Smart Ci sono anche i controlli per le luci C'è anche Philips Hue Insomma tutti quei prodotti che riportano sulla scatola Guarda qui Works with Amazon Alexa E noi a casa ne abbiamo alcuni Questo è Alpuni Oltre ai device Echo Abbiamo anche la linea dei tablet Fire Una cosa che non c'è in Italia Sono i tablet per i bambini Quindi Fire 7 Versione Kids Edition 7 e HD 8 Che noi non abbiamo Sono delle versioni speciali Sviluppate appositamente per i bambini Che hanno una copertura sul lato In modo che se anche casca Non si rompe Quindi Erika È per te Che gli rompo tutti Quanti ce ne servono però per essere sicuri? Non tantissimi Un paio facciamo? No È un posto Ho già trovato il mio Echo Dot E qua lo comprerò e vediamo se pagarlo con l'app Se funziona tutto Lo metto No 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 Lì non è il posto giusto No 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 Vabbè niente Lo poso un attimo Lo prendiamo Non solo tecnologia qui da Amazon Books Ma anche i libri tradizionali Infatti potete acquistare Dei normalissimi libri di carta Quelli con cui disboscate tutto l'universo E la foresta amazzonica Ma la cosa particolare è che Se siete clienti a Amazon Prime Si avvicini Vi avvicino Se siete clienti a Amazon Prime Sì Potete scannerizzare il prezzo E pagare alla cassa il prezzo Che trovate direttamente su Amazon Prime Quindi avere uno sconto Solo per i clienti Che hanno l'ammonamento a Prime Altra cosa molto carina Puoi avvicinarli Sì Ci sono le review dei clienti Vedi qua Ci sono le review dei clienti Questo è un Amazon Books Ho preso la cosa sbagliata Questo per esempio Il signor Liam O Ha recensionato Lo so che si dice recensito Ma mi piace dire Mi ha recensionato Il libro Ci sono le stelline Ci sono le review E qua c'è anche il codice a barra Che corrisponde al codice a barra del libro Così voi potete scansionarlo Scannerizzarlo E vedere direttamente su Amazon Quali sono tutte le altre recensioni Ovviamente potete pagare anche Attraverso l'app direttamente Infatti lo dice qua Dovete semplicemente Scannerizzare il QR code Che ho trovato Su questo coso E pagare direttamente alla cassa Io adesso mi prendo il mio bel Amazon Dot E Epo Dot E vediamo se Mi lo sconticinano Se me lo fanno pagare con l'app E con le cose lì Andiamo dai L'acquisto è stato fatto Quindi non ci resta che provarlo Spero che questo video vi sia piaciuto E mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate tanti like Per gli sforzi immessi Che abbiamo fatto qui Per portarvi al Amazon Giusto Erika? Giustissimo Bravissimi Addio Ciao Baci Ciao